E' uno dei grandissimi genni artistici del secolo scorso. E' l'anima, il propulsore, diciamo l'animatore della pop art, una corrente all'avanguardia come tutte le novità, forse all'inizio incompreso, ma poi gradualmente si è fatta largo nel mondo dell'arte e della cultura. Lui peraltro prendeva ispirazione dai fumetti, poi li trasferiva in televisione, insomma riusciva a capovolgere ma con un filo logico tutto quello che toccava. Certo che da lui poi sono andati avanti gli altri e la pop art, come si sa, ha fatto molta strada, lui è un pioniere.